Benvenuti in Italmotor, benvenuti in via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5. Tantissime le autovetture, tantissime le novità. Nuove, chilometri zero, vetture aziendali, vetture d'occasione. In più, la possibilità di finanziare anche l'intera cifra. Piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazioni incendio, furto e atti vandalici. Andiamo a scoprirle insieme. E cominciamo subito con una Volkswagen Golf 1.6 B-Fuel, benzina e GPL. Con GPL montato dalla casa, quindi bollo ridotto, solamente 60.000 i chilometri percorsi la porterete via a 10.900 euro. E continuiamo con una 500X, un multijet 140 cavalli con cambio automatico a nove rapporti in più quattro ruote motrici. La versione full optional dal navigatore satellitare ai cerchi in lega, ai sensori parcheggio, fari all'oxeno. Una versione realmente super accessoriata che sarà vostra, pensate, a soli 19.500 euro. Da un listino che supera i 30.000 euro. Avete capito bene il prezzo? 19.500 euro. Peugeot Bipper 1.3 diesel con climatizzatore immatricolato nel 2015, sarà vostro a soli 7.800 euro, compreso IVA. Fiat Cubo 1.3 multijet 75 cavalli, allestimento dynamic, 20.000 i chilometri percorsi, con climatizzatore e fendinebbia, sarà vostro a 9.900 euro. E parliamo di Jeep Renegade, parliamo dell'allestimento più bello, parliamo dell'allestimento limited, un 1.6 multijet 120 cavalli. Sensori parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, navigatore satellitare, cerchi in lega da 17 pollici, sarà vostro, pensate, a soli 20.800 euro. Fiat 500 Cabrio 1.269 cavalli, allestimento lounge, sensori parcheggio, climatizzatore automatico, autoradio con CD MP3 e Bluetooth e soprattutto solamente 14.000 i chilometri percorsi. Un mezzo praticamente nuovo in garanzia ufficiale della casa madre, sarà vostro a soli 10.900 euro. Fiat 500 1.269 cavalli, allestimento sport con impianto GPL, 60.000 i chilometri percorsi, la porterete via a 6.800 euro. E ancora 500, parliamo della motorizzazione 1.3 multijet 95 cavalli, allestimento lounge, tetto in vetro, cerchi in lega, climatizzatore, radio con CD MP3, porta USB e Bluetooth, immatricolata nel 2013, la porterete via a 9.500 euro. Avete capito bene? Motorizzazione 1.3 multijet 95 cavalli, 9.500 euro. Fiat Punto 1.269 cavalli, street, 5 porte, pochissimi chilometri percorsi, sarà vostra a 6.900 euro. E concludiamo con una Lancia Delta 1.4 turbo con impianto GPL della casa, 40.000 i chilometri percorsi, sarà vostra a 12.800 euro. Tutto questo e molto altro, via Stradale 82, in via Cardinal Masaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Ciao!